La protezione civile siamo tutti noi. La protezione civile siamo tutti noi. La protezione civile siamo tutti noi. Dai semplici cittadini ai testimoni al Vicentini noti nel mondo della musica, cinema e degli chef. I comuni di Altavilla, Creazzo e Sovizzo, con un video lanciato in rete e un opuscolo che verrà inviato a casa, hanno voluto inviare ai cittadini un messaggio di partecipazione. La protezione civile sono anch'io, siamo tutti noi. Uno slogan che noi vogliamo diffondere e far conoscere più da vicino, quello che è il ruolo proprio della protezione civile. L'organizzazione parte appunto dai cittadini. Cittadini che inizialmente si sono messi in termini volontaristici, ma adesso sempre più preparati. Ci sono cittadini che fanno corsi e che si mettono a disposizione. Ma questo non può rimanere solo in chi è specializzato, deve diffondersi dappertutto. Il cittadino è parte integrante della sua comunità. Noi siamo comunità, la comunità deve mettersi a servizio e a disposizione nel momento del bisogno. Cittadini chiamati a fare squadra, già i comuni di Altavilla, Creazzo e Sovizzo nel 2015 si sono accordati come enti per una gestione solidale delle emergenze. L'anno successivo la funzione del soccorso è stata conferita all'Unione dei Comuni Terre del Retrone. La protezione civile è uno strumento complesso, ha bisogno di attrezzature, strutture e fasi formative. Nell'Unione ciascuna protezione civile ha delle strumentazioni, le abbiamo messe assieme. Adesso stiamo cercando anche di finanziare la stessa protezione civile, cercando di dotarci di quelle strumentazioni che magari possono mancare. Ci siamo uniti come Comune, fra di noi c'è una bellissima sinergia, una grande collaborazione ed è proprio vero, l'Unione fa la forza. Grazie 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 Grazie